L'amaro calice della sconfitta questa volta è stato costretto a berlo anche Luciano D'Alfonso. La sua maggioranza, fino a ieri granitica, si è sgretolata davanti alla chiusura dei punti nascita. La risoluzione presentata da Forza Italia e dal Movimento 5 Stelle ha avuto vita facile nel passare con 17 voti a favore e 14 contrari. A fare notizia sono i due voti a favore dell'opposizione di due consiglieri del PD, Luciano Monticelli e Pierpaolo Pietrucci, oltre ai due di scelta civica Andrea Gerosolimo e Mario Olivieri. Certo, D'Alfonso nell'occasione è stato un vero e proprio kamikaze. Pensare che Monticelli, Gerosolimo e Olivieri, che hanno fatto della loro politica territoriale, della loro campagna elettorale, la salvezza dei presidi sanitari del territorio da loro rappresentati, uno dei punti cardine, votassero contro, era pura follia. D'altra parte la coerenza per uno come Luciano Monticelli, ad esempio, è uno dei punti di forza. Nemmeno gli ordini di scuderia potevano fargli dire di sì alla chiusura del punto nascita di Atri, dopo anni di battaglie condotte contro la politica delle chiusure. Il risultato della votazione di ieri segna un punto storico della legislatura regionale di D'Alfonso. E' il segnale che, se non sta attento, può andare sotto su decisioni importanti. Inutile nascondersi dietro un dito. Quello della chiusura dei punti nascita era uno degli argomenti che più stanno facendo discutere, ma soprattutto era uno di quelli dove il presidente della regione puntava per far vedere quanto fosse forte e potente. Così non è stato e anche il dopovoto non è che sia stato gestito nella maniera migliore dal governatore. Una spiegazione ai cittadini andava data, una giustificazione di tanta ostinazione andava fornita. E' facile parlare e pavoneggiarsi quando si vince. Si è forti quando ci si mette la faccia quando si perde. Fuggire non è una soluzione. La vita è fatta anche di sconfitte e D'Alfonso da ieri ha cominciato a capirlo.